Generi di prima necessità da devolvere alle famiglie bisognose di Gela li hanno donati questa mattina alcuni imprenditori e commercianti gelesi nell'ambito della quarta edizione consecutiva della stella di solidarietà promossa dalla associazione anti-racket Catano Giordano. Un'iniziativa programmata da tempo, tutto è stato fatto in maniera sobria e in segno di rispetto nei confronti della famiglia Trenito colpita dalla tragedia familiare di martedì scorso. La manifestazione si svolge nella sala conferenze della stessa associazione in corso Vittorio Emanuele. I nostri imprenditori, i nostri commercianti rispondono alla grande come tutti gli anni. Speriamo di superare il record di due anni fa che c'è stata quasi una raccolta di 10.000 euro di prodotti alimentari. Quest'anno cercheremo di attenzionare maggiormente i bambini, quindi è un consiglio che do a tutti i cittadini di portare il penzerino, soprattutto anche i pannolini. Queste sono le richieste che stanno facendo le associazioni che ci stanno collaborando oggi. Quindi io ringrazio già fin da ora sia voi giornalisti per l'interesse che state avendo nei nostri comprondi, ma tutti i cittadini, tutti i nostri commercianti, imprenditori che stanno rispondendo alla grande e sto vedendo che sta avvenendo di tutto e di più. All'iniziativa hanno aderito le parrocchie San Domenico Savio e Santa Lucia e le associazioni Gela Famiglia, il Tempio di Apollo e il CAV, centro di aiuto alla vita. Gelesi veramente sono molto solidari, anche se ci sono questi momenti che sta attraversando la nostra città, vedo che veramente la città sta rispondendo. Io voglio ringraziare l'antiracket nella persona del signor Capponetto, ma anche tutti i commercianti, tutte le famiglie che aiuteranno le altre famiglie che in questo momento vivono momenti difficili. Un momento difficile però da superare. Certo, se siamo insieme le cose si superano più facilmente. Noi speriamo con questa giornata che molti rispondano all'invito fatto dall'antiracket, ma anche da noi associazioni e da alcune parrocchie. Abbiamo avuto una grande affluenza di gente che ha collaborato e ha risposto immediatamente non solo all'appello dell'associazione antiracket, ma anche delle associazioni Gelesi. Questo è il quarto anno consecutivo. I Gelesi sono sempre stati solidali, sempre stati attenti e presenti alle necessità della città. Noi li ringraziamo e li aspettiamo per tutta la giornata. Voi raccogliete e poi distribuite? Sì, saremo noi stessi a distribuire alle famiglie che già serviamo da diversi anni e già stamattina dobbiamo dire che molte famiglie si sono iscritte nella nostra lista.